Qual è stato l'intervento della sua azienda nella ristrutturazione della Torre CNA? Noi abbiamo ricostruito tutti gli impianti di condizionamento, riscaldamento e antincendio con tutte nuove tecnologie, con dei pannelli a soffitto per ridurre il consumo energetico e migliorare la qualità di vita all'interno dei vari ambienti. Anche un intervento con un elicottero molto spettacolare, se lo può raccontare? Sì, abbiamo dovuto utilizzare un elicottero per installare a circa 85 metri da terra le unità di trattamento aria, quelle che ricambiano l'aria e che controllano l'umidità, in quanto c'erano difficoltà logistiche per arrivare a circa 90 metri da terra con i vari pesi, eccetera. E quindi abbiamo dovuto organizzare alla mattina presto, di domenica, un intervento apposito sezionando le macchine e ricostruendole poi sul tetto una volta che gli elicotteri sono riposizionati.